Invece il prossimo servizio che si occupa sempre di riordino clinico ma focalizzato più sulla sanità privata, in particolare sui medici della clinica Santa Maria. Restano in attesa della decisione politica della provincia i medici della clinica Santa Maria di Bolzano che oggi chiedono a Palazzo Widman più attenzione e lo stop ai tagli della retribuzione indiretta ai pazienti. Ad oggi la clinica Santa Maria e la clinica Sant'Anna di Merano rimangono le uniche due strutture non inserite nel sistema sanitario pubblico. Calare la scura sui finanziamenti indiretti per chi non viene trattato in strutture pubbliche o convenzionate dicono significa dare un colpo mortale alla medicina privata in Alto Adige. Noi oggi chiediamo che la retribuzione indiretta per i pazienti della clinica Santa Maria non venga abolita perché noi crediamo che questa sia l'unica possibilità per il paziente della libera scelta per il medico che cura il paziente. Ecco, se questo poi non avviene ci potrebbe essere anche un aumento dei costi? Sicuramente per il paziente aumentano i costi notevolmente circa per la metà questo vuol dire che purtroppo alcuni pazienti le prestazioni in clinica Santa Maria non se le potranno più permettere. Noi cercheremo naturalmente adesso di informare qual è la realtà di questa clinica e naturalmente anche quali sono i contorni giuridici di questa realtà. In effetti in Alto Adige abbiamo un'assistenza sanitaria privata molto ridotta rispetto alla media della comunità europea dove si parla del 40%. Le spese erogate dalla provincia per queste degenze nella clinica Santa Maria montano circa 5 per mille del totale dei costi dell'apparato sanitario e quindi ci chiediamo anche se effettivamente l'eliminazione di queste cifre comporta un risparmio per il soggetto pubblico che naturalmente ha diritto e anche l'obbligo di provvedere a questo risparmio. 4.500 i pazienti trattati di cui 3.000 operati nella struttura privata Bolsanina gestita dalle suore francescane con costi sostenuti dall'ente pubblico che si aggirano intorno ai 1.500 euro pro capite. La retribuzione in diretta non mette in pericolo il bilancio finanziario della provincia. La sua abrogazione, insistono i medici, è un tornare indietro rispetto all'evoluzione europea e un passo dubbio dal punto di vista legislativo.